Mi dispiace, continuo a fare confusione. Mi state vedendo al peggio, sono molto nervoso. La vita mi sta ballenando davanti agli occhi e per qualche ragione si focalizza solo sui momenti gay. Scusi, c'è seduto qualcuno qui? Sì, il mio amore è Tom. La tua ragazza. Ne sei sicuro, Brian? Sicurissimo. Ed ora in poi non nasconderò più niente. Come Peter e i suoi vasi di formaldeide. Peter? Sì, eccomi. Si tratta del mio lavoro, per caso? Salve, ho un contenitore di polistirolo refrigerato. Ah, devono essere i cervelli di gatto e i cadaveri di neonato. Vuoi creare? Un essere umano. Sarebbe lusinghiero chiamarlo così. Lois, perché siamo venuti? Questo è solo un posto pieno di ricchi snob. Due volte l'anno pranziamo qui con i miei. Sei fortunato, normalmente non ti farebbero mai entrare in un posto come questo. Griffin, dai, aspettano la tua ordinazione. Mi scusi, avete delle ostriche? No, non ne abbiamo. Oh cacchio! Cavolo, Griffin, fissi quel menù da almeno cinque minuti e ti stai pisciando sotto. Ah, avete delle ostriche? Alzati, devono pulire la sedia. Viscido! Mi scusi, dove metto questa valigetta piena di soldi? Ah, e lei chi è? Sono il presidente della Notte di Vini e Vernici. Lois Griffin ci ha appena acquisiti come nuovi clienti con il suo charme e la sua professionalità. Cliente nuovo? Beh, in questo caso la promozione va a Lois Griffin! Che posso dire? Adoro mia moglie. È la mia serie. Perché non dovrei essere io? Perché io faccio ridere. In questa serie proprio no. Oh, davvero? Eh, abbiamo finito le facce. L'ordinanza comunale 321 afferma che il cibo o le bevande non devono essere preparati o consumati entro sei metri da materia fecale. Hai rotto, Brian. Inoltre, gatti persiani? Chiamiamogli per ciò che sono, gatti ragnani. Questa operazione deve essere fermata subito. E finché Brian avrà la vostra attenzione, a qualcun altro serve più tempo per pulirsi? Ho più salviette oggi? Personalmente faccio meno pupù, ma uso più salviette. E c'è sempre questa piccola striscia. Giuro su Dio, è come se ci fosse un pastello di dietro. Aspettate, scusate un attimo. Figlio di un cane, allora era un pastello. Grazie per avermelo fatto condividere. Io avevo appena perso l'amore della mia vita. Così, per dimenticare il dolore, decisi di fondare una start-up dot com insieme a Quagmire. Eravamo due giovani imprenditori ambiziosi al culmine della bolla delle dot com. Google, Google, Gagal, 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 Gogol, Gagal. Continua con i versi infantili, vai alla grande, ci siamo, ce l'abbiamo quasi. Google, Gagal, Google, U-E-I-O-U. Poi ci venne un'idea destinata a cambiare per sempre il mondo della tecnologia. Google. Se vogliamo farci arrestare, la cosa migliore è farsi beccare dall'hap ring a rubare i pacchi fuori dalla porta. Ho dimenticato di rubare il pac... Ma che ci facciamo qui? Connie non veniva in questo locale. Non importa, lo sanno tutti che per risolvere un omicidio devi chiedere ad un barista se lui ha visto qualcosa. Quando dice no, tu ti giri e lui dice aspetta e ti dà un importante indizio. Ciao Jerome, sai qualcosa della morte di Connie? No bello, io me ne sto qui a lavorare. Va bene Brian, andiamocene via. Peter, aspetta. Sì? Una cameriera mi ha detto che le hai infilato la mancia nei pantaloni. Ah, e per quanto tempo volevi tenerti questo segreto? Lo hai appena fatto. Ok Jerome, se ti ricordi qualcos'altro, qui c'è il mio numero. Allora non dire nulla a Lois. Hai sentito? Cattivo, cane cattivo. Allora, non sono stato chiaro? Sì, sarò buono, credimi. Ho visto quello che hai fatto alla cintura nera. Non mi importa il colore della cintura, sei una bambina e sono più forte di te. Oh, boo a voi. E anche a voi, lei che si pavoneggiava con il trofeo Pizza Hut. Chi è la campionessa giovanile regionale di karate ora? Kelsey? Eh? Kelsey? Ad ogni modo puoi sempre usarla in primavera nelle domeniche lavorative. Mi sono sempre occupato di te, Chris. Chi sei occupato di me? Sei il mio fratellino piccolo e ti prendi cura di me? Sono sceso per svapare. Manda Chris a fare questo, manda Chris a fare quello. Chi ha ancora da spalare il vialetto? Sono tuo fratello maggiore, Steve. Io sono stato scavolcato. Già, ma è così che voleva il nonno. Non era così che volevo io. Se state facendo una conversazione personale, metto le cuffie. Io sono intelligente, non come tutti dicono, roba tipo stupida. Sono intelligente ed esigo rispetto. Tanti colmi, nina. Stracacchio, come ha potuto pensare che stessi mentendo? Io mento solo quando gioco a poker. È il momento del dentro o fuori. 75 milioni di dollari in gioco. Inizia Peter Griffin. Uh, non ha un granché in mano in questo momento. E gli occhiali a specchio che indossa non gli sono d'aiuto. All in. Devo rispondere, è mia moglie. Sei qui? Accidenti, ho fatto la spesa da Trader Joe's per questo party. E ancora una volta la tua ignoranza abissale l'ha rovinato. Ne ho abbastanza. Ecco una lista di libri delle scuole medie. Da domani ne leggerai uno al giorno. Piccole donne, Bughi nel deserto, Il donatore. Sono tutti della categoria porno, Black Beauty. C'è qualcosa che non sia pornografia. 1984, leggi 1984. Leggerò 1984. Bravo, perché è stato più imbarazzante di quando abbiamo giocato a Obbligo o Verità con Madonna. Ah, Verità. Che dici? Dimostro meno di 90 anni? Obbligo. Attenzione, Griffin. Qualcuno mi ha disegnato un pene sulla macchina. Peter, sto guardando lei. Non sono stato io, neanche so come è fatto un pene. Non sono gay. Mai visto uno. Lei non ha un pene? Sì, ma non lo guardo perché non sono gay. Se si trattasse di una vagina sarei stato io. Di quelle non viste tante. Addirittura tre. Oh, 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 tre. Fuori i dettagli. Ok, tua madre. Carino. Tua sorella, quando era appena nata. Oh, che noia. E mia zia. È caduta dalla bara al suo funerale e le si è alzate alla gonna. Sapete, infilano dell'ovata nel naso, nel retto e nella vagina dei cadaveri per impedire che fuoriescano i liquidi. Comunque ho fatto l'elogio funebre in chiesa e ne ho parlato. Andavo a braccio. Adesso pensate, il prete non mi guarda neanche in faccia dal salumiere. Non so perché, ma la cosa mi disturba. Di che parlavamo? Ah, sì, del pene sulla macchina. Sì, sono stato io. Grazie a tutti per essere venuti. Siamo qui per commemorare la vita di Thelma Griffin. Adesso dirà qualche parola su Thelma, suo figlio Peter. Mia madre ha sempre sperato di essere sepolta con il suo gatto Mittens. Quindi vorrei ringraziare l'associazione veterinari di COAG per averlo soppresso così rapidamente. Sì, prego, lo butti pure dentro. Forse è meglio infilarlo in mezzo ai piedi. Sembra che ormai siamo rimasti solo in due, Ombra. Ombra! Oh, Peter, ti sei alzato. Lui sì, ma lì sotto niente. Ehi, Peter, vuoi qualcosina da mettere nella spremuta? Cosa? Sono le nove del mattino. Beh, pensavo che volessi iniziare con qualcosa di tosto. Il coso non ti viene duro, sei un fallimento come uomo e come papone. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Oggi ci sono parecchie cure. Ci informeremo dal dottor Hartman. Io non voglio andarci, mi imbarazza. Non è questo che deve imbarazzarti, semmai la misura dovrebbe. No, 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 no! La voglio chiudere io! Tranquillo, Peter. Tu sei bravo in altre cose. Peter, quello stupido costume che hai addosso non sarà sufficiente a convincermi. Questo perché te manca la passione di un vero italiano. Oh, cocca mia! Ma che fai? Smettila! Parla col cuore e nocco a bocca. Ah, dannazione, Peter! Chiamami Pietro. Beh, parli in giro italiana, mo' sono costretto a baciarmi appassionatamente. Peter, va tutto bene? Stai a scherzare, va da paura! Rimbalzo per l'Italia e sono una pallina. Posso andare ovunque perché sono piccolina. E ora vediamo la prossima scena. Sous-titrage ST' 501